Assessore Maria Teresa D'Achille, il tavolo tecnico per lo sviluppo del territorio, convocazione degli stakeholders, amministratori locali, associazioni, per parlare di investimenti strategici. Cosa bolla in pentola? Ci sono tante risorse, quindi bandi, programmi a cui partecipare, a cui stiamo partecipando e vogliamo condividere queste linee strategiche, anche questi piani, con quelli che sono poi i soggetti attuatori e protagonisti dello sviluppo del territorio, quindi gli imprenditori, le organizzazioni sindacali, gli ordini professionali, il mondo del non-profit, la cooperazione, i sindaci. Quindi Sernia vuole anche avere un ruolo fondamentale, che fa da Trent Union, con tutte queste istituzioni, perché l'ente locale è in prima linea, questo è un territorio, una città che vanno rilanciati, e il momento è opportuno, è storico, perché ci sono tante opportunità, tanti finanziamenti, però bisogna avere la capacità progettuale, capire cosa serve, essere capaci di progettare, quindi avere una condivisione, una visione anche di quello che serve a questo territorio, e insieme a quelli che appunto fanno il sistema produttivo, il mondo dell'università, il mondo dell'imprenditoria, il mondo del non-profit, e quindi questa rete di partenariato che ci deve portare poi a condividere progetti e investimenti. Ecco il motivo, e quindi dalle infrastrutture, i materiali e materiali, e quindi Sernia in questo momento credo che rappresenti l'esempio migliore della realizzazione di questa hub strategico del tratto di rete elettrificata di Sernia, che poi ci permetterà di collegarci, ci deve collegare con il Tirreno, con Roma e con Napoli, e così altri collegamenti, come pure la mobilità sostenibile che ci deve permettere anche in città di vivere con mezzi di trasporto migliori a misura d'uomo ecologici, e così come con gli attrattori culturali, gli attrattori, la formazione, le competenze, e così il mondo della cooperazione, le risorse del territorio, valorizzare il mondo dell'imprenditoria, i servizi e quindi le infrastrutture, come la transizione ecologica e digitale, come pure l'inclusione sociale, quindi ci sono una serie di opportunità che noi abbiamo, e questo è il momento, ecco, anche di condividere, soprattutto di confrontarsi con chi vive le problematiche, le criticità, che pure ci sono notevoli in un territorio, una città, una provincia, che sono stati molto penalizzati nel contesto regionale per un ruolo che, voglio dire, negli ultimi anni non è stato principale, quindi ce lo vogliamo riprendere questo ruolo, essendo capaci poi di promuovere questo sviluppo con tutti gli attori del territorio. Rispetto ai bandi più a breve scadenza, ce n'è qualcuno che le sta particolarmente a cuore, sul quale ci può dare qualche anticipazione su progetti che atterreranno subito sulla città di Serra? Sono tanti, sono tanti veramente. Ci sono quelli che erano stati già programmati, quindi periferi urbani, rigenerazione urbana, che sono stati portati avanti, quindi diciamo che bisogna poi entrare nel momento in cui si faranno le convenzioni e i progetti esecutivi che riqualificheranno molte parti della città. Ci sta quello del CIS, il completamento dell'auditorium, e ci sono tutti quelli legati al PNRR che sono nuovi, quindi sono nuovi interventi e quindi che riguardano le scuole, che riguardano l'impiantistica sportiva, riguardano l'inclusione sociale e quindi cominciare dai minori, i centri di aggregazione, ma altre infrastrutture per la città, come dicevo, quindi noi non ci fermiamo a quello che oggi c'è, ma pensiamo a creare i servizi alle imprese, a chi ci vuole lavorare in questa città, agli studenti, quindi a far tornare anche i corsi di laurea all'Università del Molise. Quindi sono una serie di servizi e di infrastrutture, sono tutti progetti strategici su cui dobbiamo essere capaci appunto di saperlo fare e saperlo fare bene, perché altrimenti queste risorse si possono disperdere e noi ecco perché vogliamo condividere e confrontarci. Grazie. 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 Grazie.